A TELLA! Ma vai vai! Oh no, adesso moriamo! Ma che cavolo... Qualunque cosa ci sia, è nascosta lì da duemila anni. Il geroglifici dicono che la sete di potere la condusse su un sentiero più oscuro. Per questo decisero di fermarla. La giunta del senato si è espressa positivamente sulla decadenza di Zerlusconi. Per via delle sue azioni, questo antico potere... è tornato. Se la corte ritiene illegittima la retroattività della Severino, il presidente potrà candidarsi. Mi piacerebbe che tutto il paese possa godere di stesso trattamento. Lei è ancora vivo perché è stato scelto. Scelto? Da cosa? Dal male. Il male supremo. Secondo la leggenda, era un essere dai poteri inimmaginabili. Adesso sta usando te. Devi acquistarlo. Oh mio Dio. Non si fermano. Non avete dignità. Il che non avrà trasformato il nostro mondo. Non sapete cos'è la novità d'animo. Il suo. Non sapete cos'è la democrazia. Non puoi scappare. Non sapete cos'è la libertà. Non puoi sfuggirle. Ha dei progetti per te. Siete i poveri comunisti. Io mi arrabbio, ma ne sembra che sono arrabbiato. Secondo me il PD ha tutte le condizioni per essere il primo gruppo parlamentare. Ho 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 ho.